Un nuovo Parlo in Radio sta per cominciare. Oggi un po' particolare, perché ho deciso di fare quattro chiacchiere con voi su come sta procedendo la mia radio, sulle cose che mi piacciono, le cose che mi piacciono un po' meno, su come si sta muovendo in toto, magari per i più curiosi, ecco, potrà essere interessante, e soprattutto mi va di parlarvi di qualche numero, in modo tale da capire effettivamente se stiamo raggiungendo qualcuno o se tutto quello che stiamo facendo è il nulla. Parlo in Radio, il primo podcast in Italia che ti fa entrare nel mondo della radiofonia a 360 gradi. Iscriviti e resta aggiornato sui nuovi episodi. So che ci sono tantissime persone appassionate anche di questo ambito, no? Il backstage radiofonico, quanti contatti raggiungiamo, insomma, come gestiamo questi contatti, eccetera, eccetera, eccetera. Sono molto felice di fare questo parlo in radio, era già un po' che volevo portarlo, ma ho sempre aspettato ecco di raggiungere qualche numeretto in modo tale da potervi parlare effettivamente. Allora, Radio Omega sta procedendo benissimo, io sono felice di come stiamo andando avanti, sta accadendo quello che mi aspettavo, ovvero si parte sempre col botto, è chiaro, è normale, c'è hype, c'è attesa, le persone sono curiose di sapere cosa stai facendo, sono curiose di sapere come sarà la tua radio, quindi ti ascoltano le prime volte. Quindi si parte sempre col botto, poi c'è la brusca discesa. Questo perché all'inizio sei pieno di persone che ti hanno ascoltato solo per curiosità all'inizio, per, come posso dire, per sentire un po' come sono tutti i programmi, eccetera, però magari poi non sono persone effettivamente affezionate al mondo della radio al 100%, quindi magari può risultare anche pesante, no? Ascoltarti quotidianamente e quindi non ti ascoltano più o magari ti ascoltano saltuariamente. Quindi tutto quello che sta accadendo è normalissimo, dall'alto siamo precipitati e ora stiamo lentamente tornando su, che è normale. Il lentamente tornare su, diciamo, quelle persone che stiamo acquisendo giorno per giorno sempre di più, sono tutte quelle persone che sono in un qualche modo affiliate e sono legate, ecco, al mondo della radio, non solo a Radio Omega, al mondo della radio in generale, che stanno scoprendo Radio Omega e che si trovano bene ad ascoltare Radio Omega e quindi ci ascoltano. Per quanto riguarda i contatti, sono felicissimo di dire con voi, di condividere con voi il fatto che Radio Omega tra visite, tra pagine viste sul sito web e numero di play cliccati, attenzione, non numero di utenti, eh, numero di play cliccati, siamo circa, sommando questi due dati, ad 8.900 barra 9.000 contatti. 9.000 contatti ricevuti da veramente gennaio, ragazzi, quindi siamo praticamente a metà marzo e io sono la persona più felice del mondo. Siamo partiti bene, dobbiamo continuare così, anzi, vi chiedo, se non mi seguite, di seguirmi sul social della mia radio, Omega Radio trattino basso, per restare sempre aggiornati e per capire sempre come siamo messi con la radio e soprattutto anche per darmi quella mano in più per crescere anche sul social. Il che credetemi, ragazzi, crescere sui social è veramente importantissimo e ai follower non costa davvero nulla, cliccare segui. Allora, me lo aspettavo, cosa cambierei, cosa mi piace? Dunque, mi piace moltissimo la voglia di fare e la prontezza di tutti i miei speaker, di tutti i miei collaboratori che veramente mi stanno portando dei programmi magnifici e io non finirò mai di ringraziarli. Vi ricordo che su Radio Omega si spazia veramente a 360 gradi per quanto riguarda qualsiasi tipologia di argomento. Copriamo, anche di questo sono felicissimo, copriamo praticamente tutti i giorni, a parte la domenica, dalle 17 in poi fino a orario post cena. Quindi veramente una bella copertura, diciamo che una persona in casa dopo aver finito la sua giornata lavorativa, se si sintonizza su Radio Omega sicuramente sentirà qualcuno che gli parla di sport, piuttosto che di cinema, piuttosto che delle ultime tendenze social, piuttosto che di nuove generazioni, insomma qualcosa lo sente e sono davvero davvero felice. Cosa non mi piace? Un'unica cosa. Credo che il più grande difetto delle radio web sia proprio la stabilità web. Allora, io non godo di una gran connessione, è vero, ne sono consapevole, però ragazzi si tratta di 192 kilobit al secondo di upload, quindi non è nemmeno così tanto. Il problema è che il web è tutto un... forse. Forse avrete sentito che qualche giorno fa, più o meno una settimana fa, sono bruciati i server OVH a Strasburgo. Su quei server era presente anche il server di trasmissione di Radio Omega e questo ha portato ad un blocco totale per tre giorni della nostra applicazione. Fortunatamente il player sul sito web sono riuscito a salvarlo attivando il servizio con un altro provider, però cari ragazzi è un po' il problema questo della radio web, perché se un FM appunto, non lo so, esplode un'antenna, va bene, d'accordo, andiamo a sostituire quell'antenna, magari non copriamo quella fascia lì, quella fascia di persone lì, però le altre sì, l'importante è che non si distrugga l'antenna principale, ma poi anche lì ragazzi, tra antenne di backup e programmi, no problem, cioè sicuramente non hanno di questi problemi. Il problema fondamentale lo hanno appunto le radio web. La radio web ha un solo indirizzo di trasmissione e se si blocca quello, cari ragazzi, la radio è ferma. Io però ne sono uscito felice da questa cosa, perché sono cose che si imparano, ho imparato quindi ad acquistare quindi anche un server di backup, perché non si sa mai, quindi ogni volta si imparano cose. Ecco, chiedo veramente meglio, ringrazio ancora una volta tutti i miei collaboratori per l'estrema pazienza che hanno, perché si sono lanciati ecco in un progetto acerbo insieme a me, quindi sono felicissimo di poterlo portare avanti e farlo crescere insieme a loro. Se ancora non lo fate, vi ricordo, scaricate l'applicazione di Radio Omega disponibile su qualsiasi store e ascoltateci, se siete in ufficio o nel vostro negozio o da qualsiasi altra parte, su omegaradio.it slash ascolta direttamente dal vostro sito web. Potete anche leggere i nostri articoli su omegaradio.it e che dire, seguirmi sulle pagine social, omegaradio trattino basso su Instagram e radiomega su Facebook. Ovviamente, mi raccomando, seguite anche le pagine del podcast su Instagram, e se avete qualsiasi dubbio, info, chiocciola, ilpodcast.com. Per quanto riguarda questa chiacchierata, diciamo, su come sta andando la mia radio e tutto, io vi saluto e vi ricordo l'appuntamento di lunedì prossimo in un altro episodio di Parlo in Radio. Ciao! Parlo in Radio, il primo podcast in Italia che ti fa entrare nel mondo della radiofonia a 360 gradi. Iscriviti e resta aggiornato sui nuovi episodi.